Buonasera ragazzi, stasera per poco, per poco non siamo andati in cassa spaccando tutto ma ci accontentiamo di un ambo a tutti, logicamente chi è in questo gruppo e lo ripeto e lo ripeterò sempre, ecco la nuova previsione con formula, paghi se vinci, le persone non pagano niente, infatti c'è scritto se esce l'ambato o l'ambo a tutte, è nazionale, il compenso va dato solo se esce l'ambo secco su Bari o Milano stasera è uscito l'ambo a tutte, tante persone mi stanno mandando la loro testimonianza, ragazzi sono qui nel gruppo gratis perché è gratis? Perché finché non esce l'ambo secco a ruota non pagheranno 1 euro, ma meno 1 euro, ok? E sia chiaro questo, perché tanti poi vanno a dire delle cavolate su questo gruppo, il gruppo, quello lì con formula il gruppo con questa bellissima formula che c'è scritto qua, vedete? Vedete? Ok? Stasera è uscito l'ambo secco 1865 a Cagliari, ci ha preso in giro, noi avevamo Bari-Milano, è uscito sotto Bari, è uscito a Cagliari il 1865, va bene? Cambieremo la previsione, ok? Darò la nuova previsione a tutte le persone che sono in questo gruppo andiamo a vedere qualche testimonianza, vi faccio vedere velocemente alcune testimonianze perché poi dobbiamo passare subito guardate questo che bello, 4 euro, ambo a tutte sono circa 100 euro, senza pagare nemmeno 1 euro di abbonamento nemmeno 1 euro di abbonamento, qui ok 23 euro, con un solo ambo stiamo parlando, avete visto la previsione, vero? non è che ho dato 20 ambi, ok? Allora, andiamo a vedere qualcun altro qui Michele scrive, peccato cavolo la ruota, eh sì Michele, se usciva a ruota era un putifere con tutti gli iscritti che ci sono in questo, in questo gruppo, Whatsapp, Whatsapp mettiamo la P, bella, grande, dobbiamo fare 9,50 euro per 23, faccio con la calcolatrice perché allora 9,50 per 23 euro sono, si è portato in tasca 218 euro senza pagare 1 euro di abbonamento questo è meglio precisarlo, ok? In questo gruppo si paga l'iscrizione una volta sola e non pagate nient'altro finché non esce l'ambo secco a ruota io do solo due ruote, un solo ambo secco e se esce l'ambo secco sulle ruote che do allora c'è la compensazione come si suol dire altrimenti finché non esce l'ambo secco a ruota non si paga nemmeno 1 euro e tante persone si portano in tasca circa 218 euro senza pagare 1 euro di abbonamento ebbene ragazzi passiamo adesso al fantastico software appena nato quaterna number one volume 4 che stasera ha dato subito una doppia vincita andiamola a vedere ed ecco l'ambo in quartina centrato con il nuovo, il neonato diciamo il nuovo nato software quaterna number one volume 4 che stasera ha fatto, ha centrato il bellissimo ambo in quartina 76-77 a Bari questa previsione l'avevo messa anche nel gruppo logicamente Whatsapp spero che qualcuno l'ha giocata per ricevere anche la testimonianza perché è appena nato, alle 6 avevo lanciato questo software quindi si sono state appena un'ora e mezza per chi poteva andare in tabaccheria a fare questa giocata, ok? speriamo che qualcuno l'ha fatta bene, abbiamo adesso ancora un'altra previsione in gioco di questo software speriamo bene che quell'altra dia più soddisfazione oppure che questa qui che avete visto anche voi continui e possa dare anche qualcosa in più ok ragazzi? bene, io con questo ho finito auguro a tutti una buona serata e buone vince sempre con Rosario Gallo e con Previsione Vincenti.it grazie 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 grazie